La prima delle Ferrari, Giuliano Francioni e Stefano Dreyer. Allora, abbiamo due francesi, no? Buon soir, buon soir, ben arrivati a Roma. Es che buon mancanusese e si vien con un po' di più. È faro formidabile. Fantastico. Con il 508, benvenuti Alessandro Pienta, ciao. Ciao, benvenuto. Noi andiamo avanti con quest'altra, un veraviglioso Ferrari, il 506, benvenuti, benvenuti. Eccoli qui.